alluvione il caso dimenticato di fiorenzuola di focara identificato il cadavere trovato a fano è un africano scappato dall'ospedale nasce un progetto per potenziare l'accesso agli asili compie 60 anni la mostra del tartufo di sant'angelo invado giornate fai d'autunno si apre alle visite anche villa pavarotti buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è giovedì 5 ottobre e andiamo a parlare di ricostruzione ieri vi abbiamo documentato la visita a Pesaro del generale Figliuolo commissario alla ricostruzione per l'alluvione dello scorso maggio oggi le nostre telecamere si sono accese su uno dei luoghi feriti dall'alluvione ma che non vengono ritenuti prioritari e per questo stanno scivolando in un progressivo stato di incuria vi raccontiamo tutto in questo primo servizio giovedì 5 di ottobre ci troviamo oggi sulla spiaggia di Fiorenzuola di Focara dove come vedete alle mie spalle regna questo scenario particolare di decine decine di capanne di legno accatastato a testimonianza di quanto anche in quest'estate sia stata frequentata questa spiaggia particolare del San Bartolo è una spiaggia nella quale via terra ci si arriva solo attraverso la strada del mare che parte dal borgo di Fiorenzuola di Focara strada accessibile per i pedoni ma altrimenti resa inaccessibile per quello che riguarda le problematiche relative all'alluvione del maggio scorso siamo venuti qua proprio all'indomani della visita del generale Figliuolo commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione di maggio perché questa strada non è stata ritenuta come intervento prioritario dalla regione Marche come interventi post alluvionali abbiamo fatto questa mezz'ora di camminata dal borgo alla spiaggia in compagnia di Yolanda Filippini presidente delle quartiere e di Davide Manenti ex presidente del parco San Bartolo che reputa questo mancato inserimento di priorità per quello che riguarda gli interventi sulla strada di assoluta miopia amministrativa questa decisione degli amici del centro-destra mi lascia veramente molto perplesso posso sintetizzare con un'affermazione miopia totale miopia questa strada è una risorsa turistica il parco San Bartolo è il fiore all'occhiello di tutto il comune di Pesaro abbiamo tre strade che scendono a mare e ritenere non prioritaria la manutenzione di una strada come questa ripeto è sinonimo di non compatibilità ambientale quindi di scarsa conoscenza e di miopia percorrendo è appunto la strada abbiamo visto mancanza di fessurazioni, caditoie piene, smottamenti ci sarebbero tanti piccoli interventi di manutenzione ordinaria da fare che sommate insieme rendono la situazione straordinaria come hai potuto vedere gli interventi che sono stati fatti sono quelli post incendio li abbiamo effettuati insieme a Matteo Ricci subito dopo l'evento del 2017 e così tutto è rimasto avevamo messo in sicurezza il percorso con tutte le funi per il transito pedonale alcuni tornanti, la regimazione delle acque e questo ci ha permesso di arrivare fino ad oggi gli eventi straordinari di questa primavera hanno fatto quello che hai visto fino adesso se si interviene in maniera puntuale e ordinaria i danni possono essere anche contenuti se si aspetta che il tempo passi, si aspettano le risorse che peraltro poi ci sono abbiamo ancora 5 milioni da spendere e su quello ci sarebbe tanto altro da dire probabilmente arriveremo a un punto tale che i danni saranno talmente tanti che non basteranno nemmeno quelle risorse qui l'incuria è manifesta, io mi rifiuto di accettare questo stato di fatto sono appena tornato dall'Austria, lì le strade arrivano fino sotto i ghiacciai le mettono a pagamento, facciamolo anche noi e teniamo a posto la strada qui ogni estate, soprattutto quest'estate c'è stato un corposo flusso turistico molti stranieri, molti bambini nonostante la strada diciamo sia un po' erte in salita così comunque molti bambini e quindi anche un turismo un po' per famiglie non solo per giovani eccetera. La mente lessitante derivano dalla mancanza dei servizi non c'è stato un bagno chimico, non c'è l'acqua, non c'è una fontanella per delle rotture gli altri anni che c'era un gestore della spiaggia qui con un chiosco che seguiva anche, controllava i bivacchi notturni, quindi fuochi selvaggi così non ci sono stati e quindi sono tante lamentele che questi turisti si riportano su dalla spiaggia nonostante la bellezza che possiamo tutti vedere e quindi queste manutenzioni sono veramente necessarie per sopperire a tutte queste criticità che ci troviamo noi poi dopo a sopportare e a supportare in ogni modo. Davide Manenti su questo luogo ha l'attenzione di una persona che ci è cresciuto per tutta la vita che è stato presidente del Parco San Bartolo e che ora è tornato in consiglio comunale le chiedo aspettando e sperando che si muova l'amministrazione regionale su questo fronte cosa può fare il Comune e cosa può fare il Parco? Beh, cosa può fare il Parco? Già il Parco noi abbiamo fatto quando c'ero io abbiamo cambiato insieme ad Andrea Bianchiani la pianta organica a un cantoniere del Parco già ci può far venire a fare manutenzione in quota parte quello che può fare essendo un sentiero del Parco ricordo che sopra c'è il sentiero Dante Alighieri dotato dalla scuola Dante Alighieri di Pesaro sotto mio invito detto questo come consigliere comunale con Matteo abbiamo già delle idee chiare dei progetti in merito non posso già svelare tutto ma se in termini di cantoniere di quartiere ma anche di interventi diciamo mirati grazie a dei fondi intercettati con bandi mi parli regionali e europei riusciremo i prossimi giorni a dare delle risposte diciamo parziali ad un problema enorme che deve per forza vedere coinvolta la regione con lo stanziamento di risorse sono stati spostate delle risorse per completare i lavori delle scogliere che abbiamo qui davanti che hanno grazie a quelle scogliere oggi abbiamo la spiaggia altrimenti non ci sarebbe la spiaggia questa non è una spiaggia naturale hanno spostato le risorse di ripascimento da Firenzola a Castellimezzo sono dei dispetti ma questi dispetti cosa provocano? Danni enormi non si finisce un'opera e non servono niente dall'altra parte una goccia del mare non è il modo corretto di operare dopo l'alluvione di settembre 2022 si stanno concludendo i 25 interventi urgenti effettuati negli ultimi sei mesi da Marche Multiservizi Fracantiano, Cagli, Pergola, Serra Santa Bondio e Frontone un impegno massiccio per riparare reti fognarie e acquedotto e allora ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato all'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli con l'intervento di ripristino e difesa della rete fognaria partito in questi giorni a Cagli si stanno concludendo i lavori di somma urgenza realizzati da Marche Multiservizi in seguito all'alluvione del settembre 2022 che ha colpito i comuni di Cantiano, Frontone, Pergola, Serra Santa Bondio e appunto la stessa Cagli da aprile, mese in cui sono stati approvati in conferenza di servizi i progetti e sono state impegnate le risorse, Marche Multiservizi ha realizzato 25 interventi per un importo complessivo di 5 milioni e 200 mila euro Come ci siamo avvicinati subito alla sera dell'alluvione come segno di vicinanza alla collettività devastata dall'alluvione abbiamo proseguito nei mesi e nelle settimane successive procedendo alla rilevazione dei danni, alla progettazione dei primi interventi Finora sono stati stanziati 2 milioni e 800 mila euro per interventi di ripristino nel settore fognare e depurativo e quasi 2 milioni e 400 mila euro per interventi di ripristino nel settore idrico potabile un lavoro che non è concluso La prima stima dei danni rilevati sia nell'acquedotto sia nella rete fognare e depurativa montava a volte 40 milioni di euro 5 milioni come dicevo sono stati realizzati come sommo urgenza ne restano molti altri quindi saranno circa 35 milioni che dovremmo investire sul territorio che stiamo aspettando l'ok del vice commissario e quindi della regione in modo tale da partire con la progettazione esecutiva e poi relativamente procedere anche ai bandi di gara per assegnare i lavori e quindi completare quello che è un intervento infrastrutturale che ci deve consentire nei 5 comuni interessati a ripristinare totalmente anche migliorando la situazione previgente quella che è l'impiantistica devastata dall'alluvione quindi è chiaro che i prossimi interventi saranno molto più importanti e necessitano anche un tempo un po' più lungo nella loro realizzazione ma sicuramente consentiranno un rilancio complessivo del territorio interessato Ed ora cambiamo argomento è stato identificato il corpo senza vita trovato martedì in prossimità della riva del Metauro si tratterebbe di un giovane africano scappato da un intervento ortopedico all'ospedale di Fano e sofferente di diverse patologie non è stata divulgata l'identità del soggetto ma l'autopsia ha fatto luce su un decesso avvenuto oltre un mese fa e non riconducibile ad una morte violenta bensì ad una pericolosa negligenza per le mancate terapie ospedaliere seguenti al decorso post-operatorio le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece ad un incendio avvenuto a Pesaro proprio ieri sera intorno alle 22 in via degli Abeti a prendere fuoco un furgone parcheggiato in prossimità di una carrozzeria il mezzo è stato completamente distrutto e i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per circoscrivere il rogo ed evitare che intaccasse due autobus parcheggiati a pochi metri di distanza indagini in corso su un sospetto atto doloso ci siamo occupati spesso negli ultimi mesi di alcune carenze di posti disponibili proprio negli asili del territorio con tante famiglie che sono costrette a rivolgersi ai servizi educativi cerca di colmare almeno parzialmente questa lacuna un nuovo progetto lanciato dalla cooperativa Labirinto Potenziare le condizioni di accesso ai servizi educativi per le famiglie nella fascia d'età 0-6 anni si intitola C'era una volta il progetto ideato e sviluppato dalla Labirinto Cooperativa Sociale di Pesaro vincitore di un bando dedicato al contrasto della povertà educativa minorile una parziale risposta che va ad integrare un sempre più pressante bisogno di famiglie che restano escluse dagli asili un progetto che coinvolge ben 12 ambiti territoriali sociali delle Marche e che è stato presentato oggi nel comune di Pesaro è un progetto appunto mirato sulla fascia 0-6 anni che quindi coinvolge bambini della prima infanzia ma anche coinvolge le loro famiglie i servizi che si vanno a creare sul territorio regionale sono sia servizi integrativi di servizi già esistenti come prolungamenti orari di nidi o aumento di posti disponibili presso i nidi le scuole dell'infanzia sia attivazione di nuovi servizi quindi nascita di nuovi nidi micronido, centro per l'infanzia attività di supporto alla genitorialità come sportelli di ascolto per le famiglie come scuole per i genitori e anche un laboratorio outdoor laboratori musicali un centro polifunzionale che verrà realizzato nel comune di Monteprandone quindi sono veramente tante le iniziative che grazie a questo progetto finanziato dall'impresa sociale con i bambini ci accompagnerà fino al 2025 per sostenere questa delicata fascia di età il problema che viene diciamo intercettato dai soggetti promotori gestori di questo progetto è proprio quello della difficoltà di accesso ai servizi educativi da parte di alcune fasce di famiglie in particolare quelle con più difficoltà economica e sociale la fondazione con i bambini che è l'ente nazionale che finanzia iniziative di questo tipo e per il terzo anno ha premiato questo progetto che come i precedenti da parte della nostra cooperativa insieme a dei partner di progetto che sono numerosi soggetti del terzo settore amministrazioni pubbliche vanno a cercare di dare una risposta per quanto parziale a questa problematica il progetto è stato vincitore del bando cominciò da zero dell'impresa sociale con i bambini e il bando è uscito nel 2021 il progetto è partito poi nel 2022 e il finanziamento complessivo per tutto il progetto triennale è di circa un milione di euro C'era una volta un progetto che riguarda 12 ambiti sociali e territoriali di tutta la regione è estremamente articolato nel nostro territorio vede il potenziamento degli orardi e le nuvole di cotone che è un nido di Borgo Santa Maria è uno spazio aperto per famiglie e bambini sempre di quella fascia d'età il sabato quindi riservato al sabato Nella città di Pesaro proprio il 14 ottobre sabato prossimo verrà avviato uno spazio gioco presso il nido nuvole di cotone di Borgo Santa Maria che accoglierà 12 bambini nella fascia da 0-3 anni bambini che è stata data la priorità ai bambini esclusi dalle graduatorie dei nidi quindi avranno la disponibilità i sabati mattina di accedere gratuitamente insieme a un adulto accompagnatore e potranno fare attività laboratoriali insieme alle educatrici che avranno in gestione questo spazio gioco Diminuiscono gli infortuni sul lavoro nella provincia di Pesaro e Urbino ma sono in aumento le malattie professionali è questo il quadro delle rilevazioni dell'ANMIL sui dati INAIL per il periodo gennaio-luglio 2023 infortuni che calano dell'8,3% calo ancora più consistente a livello regionale con un meno 15,6% anche gli infortuni mortali scendono dai 7 del gennaio-luglio 2022 ai 4 dei primi 7 mesi di quest'anno preoccupa invece il dato delle malattie professionali salite al del 6% numeri e riflessioni al centro della 73 giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro che l'ANMIL provinciale organizzerà domenica 8 ottobre alle 10.30 a Mondolfo nel Chiostro di Sant'Agostino martedì sera all'hotel Elvezia di Pesaro c'è stato un incontro pubblico organizzato dal partito Più Europa in cui il padrone di casa Andrea Verde e l'attivista nonché critico cinematografico Pierpaolo Loffreda hanno espresso l'intenzione di candidarsi alle prossime elezioni amministrative del 2024 col simbolo del partito fondato da Emma Bonino fra i punti focali del loro impegno politico il recupero e la valorizzazione di alcuni luoghi culturali di Pesaro come Orti Giuli Rocca Costanza e i mosaici del Duomo in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino la biblioteca Rodari di Borgo Santa Maria propone due appuntamenti dedicati al grande scrittore domenica 8 ottobre alle 16.30 accoglierà l'appuntamento voce e organetto per riscoprire le fiabe della tradizione italiana trascritte da Calvino dai vari dialetti della penisola a seguire giovedì 12 ottobre alle ore 17 la biblioteca proporrà il laboratorio Calvino Cento e Lode rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni ed ora parliamo di eventi del nostro territorio per longevità pensate è la seconda rassegna del tartufo più antica d'Italia stiamo parlando dei 60 anni che compie la mostra del tartufo di Sant'Angelo in vado che parte proprio questo sabato col primo di 4 weekend e sarà seguito proprio questo evento dalle nostre telecamere di Rossini TV quest'anno è una ricorrenza importante perché poi è decadale quindi ci teniamo a far bella figura siamo la seconda mostra a livello italiano comunque dopo Alba quindi siamo la più longeva dopo Alba vogliamo incrementare un po' il livello qualitativo delle iniziative che proponiamo sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista enogastronomico quello che a noi ci preme ormai sono 60 anni che portiamo avanti questo pensiero è di far conoscere un territorio quindi le bellezze che abbiamo a Sant'Angelo in vado ma anche tutte le bellezze che stanno nel territorio quando dico territorio intendo tutta l'alta valle del metauro quindi quella che anticamente per gli storici veniva considerata la massa trabaria il terreno delle grandi travi dove la storia è passata dai romani che venivano a prendere queste travi per portarle a Roma fino a costruirci le grandi basiliche romane quindi da Sant'Angelo in vado è partita una buona parte della grande storia che conosciamo oggi nel mondo le tre settimane i tre weekend saranno tre weekend all'insegna dell'enogastronomia il primo quindi avremo un premiato importante una delle tre stelle Michelin una delle poche tre stelle Michelin che abbiamo in Italia mi sembra che sono 11 quindi abbiamo l'onore di averne uno e di premiarlo avremo sempre nel solco dell'enogastronomia nel secondo weekend che è quello dedicato ai motori un altro personaggio importantissimo nel mondo del turismo diciamo così perché poi ha un po' deviato le sue attività per oggi è Bruno Barbieri un grandissimo intrattenitore televisivo che comunque veicola il come fare turismo in Italia e nel mondo e poi l'ultimo avremo un weekend dedicato all'imprenditoria a 360 gradi tante mostre d'arte troveranno quindi vari palazzi storici che vengono aperti solo e esclusivamente per questa occasione quindi anche delle cantine monumentali dove sarà possibile degustare su cantine del 400 troveranno una Domus del Mito che è una casa romana del primo secolo dopo Cristo che ha 800 metri quadrati di mosaici bicromi e policromi ed è uno dei ritrovamenti archeologici più importanti d'Italia degli ultimi 50 anni e troveranno e si gusteranno la voglia di perdersi nei vicoli per poi trovare delle piazzette dove ci sono comunque spettacoli eventi talk show e venite venite poi vedrete poi sarà deve essere anche una sorpresa non possiamo dire tutto continuiamo a parlare di eventi perché oggi nella sede della regione Marche è stato presentato il programma della dodicesima edizione delle giornate FAI d'autunno ci sono palazzi storici chiese giardini nell'elenco dei 47 luoghi visitabili nelle Marche sabato 14 e domenica 15 ottobre nel programma presentato dalla presidente del FAI Marche Alessandra Stipa spicca a Pesaro la novità dell'apertura alle visite di Villa Giulia residenza alle pendici del parco San Bartolo che per 30 anni è stata dimora del grande tenore Luciano Pavarotti un'altra rassegna storica della città di Pesaro si riappropria del teatro Rossini parliamo del GAD festival nazionale d'arte drammatica che partirà lunedì con la sua anteprima fra spettacoli in concorso ed eventi collaterali parte un programma vastissimo che andiamo ad approfondire con il direttore artistico Cristian Della Chiara 76esima edizione del festival d'arte drammatica il 19 ottobre parte il concorso però c'è tanto altro c'è un programma che inizia col festival ragazzi già alle 16 ci sono tanti eventi collaterali suggestivi però partiamo dal concorso che cosa vedremo dal 19 ottobre il 19 ottobre vedremo lo spettacolo della Calandria della compagnia Il Castello di Foligno un ritorno a Pesaro una compagnia che ha riscosso tanto successo nelle edizioni passate quindi un bel modo di far partire il festival con uno spettacolo di sicuro livello sono otto gli spettacoli in concorsi selezionati dalla giuria dalla commissione selezionatrice composta da me da Giuseppe Sposto che ringrazio per il grande lavoro perché sono stati 117 gli spettacoli proposti quindi anche quest'anno la possibilità di scegliere fra il meglio del teatro non professionistico che si presenta a Pesaro considerando il nostro festival con un po' di riferimento di un movimento che conta migliaia di compagnie in tutta Italia quindi abbiamo un po' la presunzione e direi l'orgoglio di poter presentare il meglio di questo movimento così ampio la partenza sicuramente garantisce e conferma questo pensiero con questo spettacolo che appassionerà il pubblico direi anche divertirà e poi abbiamo tanto altro dicevamo il festival ragazzi che è una piacevole conferma sì in un festival che fa del pubblico dei giovani e dei giovanissimi proprio pubblico di riferimento quindi tutto il festival in realtà è un festival ragazzi è ricavata al proprio interno una sezione ancora più per i ragazzi in cui ci sono sono presenti degli spettacoli anche in orario mattiniero quindi i ragazzi possono venire durante l'orario scolastico a teatro a vedere gli spettacoli sono due le proposte di quest'anno Alessandro Barbaglia che presenta Storie vere al 97% una rincorsa che ho fatto da Alessandro già da un po' di tempo finalmente quest'anno abbiamo trovato la data giusta per poterci incontrare uno spettacolo di narrazione delle storie raccontate vere appunto al 97% cioè storie vere con un pizzico di drammaturgia per renderle ancora più fruibili ma che lasceranno veramente a bocca aperta i nostri spettatori scoprendo delle storie che un po' conoscono ma che saranno completate sul palcoscenico dallo stesso Alessandro che le racconterà accompagnato da un musicista e poi un grande ritorno ormai possiamo dire che è un ospite quasi fisso del nostro festival Roberto Mercadini con uno spettacolo tutto dedicato alla vita e all'opera di William Shakespeare Mercadini torna a Pesaro per la quarta volta la prima volta era conosciuto da pochissimi fan che lo seguivano soprattutto sul suo canale YouTube ora è uno degli autori e attori teatrali più seguiti in Italia per questo particolare genere di teatro in questo teatro ancora di narrazione tornerà a Pesaro in un festival che lo accoglierà ancora a braccia aperte con un doppio appuntamento la mattina alle 11 e la sera alle 21 c'è poi un antipasto quello del 9 di ottobre il 9 di ottobre è un antipasto particolarmente direi succulento l'associazione Amici della Prosa organizza da qualche anno il festival di poesia Vaghe Stelle dell'Orsa ideato e curato da Laura Corraducci un appuntamento speciale di Vaghe Stelle dell'Orsa per dare il via al festival sarà il 9 ottobre all'ore 18 in Sala della Repubblica un appuntamento dedicato a Marlene Dietrich ma sempre il 9 ottobre questa volta la sera alle 21 un appuntamento di teatro sociale un momento cui teniamo tanto abbiamo aderito a questo progetto proposto da Marco Paolini di mettere a disposizione il proprio testo dedicato alla tragedia del Vajon proprio nell'anno in cui ricorrono i 60 anni dalla tragedia del Vajon appunto saranno migliaia di teatri in tutta Italia che contemporaneamente metteranno in scena in forma di lettura o in altri casi forse anche in forma scenica il testo Vajon appunto noi in collaborazione con Le Voci dei Libri con Lente Olivieri Amati il Comune di Pesaro l'Università dell'Età Libera abbiamo organizzato una lettura collettiva per ricordare questa tragedia un momento di teatro sociale di teatro impegnato che si concluderà poco dopo le 22 quando ricorrerà appunto il minuto esatto della tragedia del Vajon si ricorda il Vajon ma si ricorda anche una personalità importante quella di Franca Rame sì a dieci anni dalla scomparsa uno spettacolo in collaborazione con la fondazione Forame vedrà in scena tre grandi attrici Valentina Ludovini Lucia Vasini e Marina De Iuli che porteranno in scena appunto alcuni estratti da importanti e celebri monologhi di Franca Rame per ricordare una figura così importante non solo del teatro ma anche dell'impegno civile Ricordiamo quelle che sono le location del festival e le modalità d'accesso per il pubblico Nel 2 ottobre è possibile acquistare biglietti e abbonamenti al teatro Rossini che ospiterà tutti gli appuntamenti del festival nella sala grande e nella sala della Repubblica a iniziare l'abbiamo detto prima il festival inizia il 19 ma con un'apertura il 16 mattina non ricordavamo ma ricordiamo che il 16 sera c'è anche un concerto perché torna la musica protagonista del festival dopo l'anno scorso in cui abbiamo ospitato l'orchestro Olimpia quest'anno Aldemaro Moltedo Jazz Band che inaugurerà le serate del festival appunto il 16 ottobre con un concerto gratuito Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale vi ricordo la replica delle 20 e 30 ma vi ricordo soprattutto questa sera che alle 21 e 20 parte la prima puntata di Insieme a Canestro siamo arrivati alla quarta edizione rispondete in diretta alle domande che la nostra Elisabetta Ferri vi porgerà ma potete anche commentare perché avrete la possibilità di vincere due biglietti per la prossima partita di domenica alla Vitri Frigo Arena e poi domani torna la nostra rassegna stampa la potete seguire sul canale 80 sulla diretta della pagina Facebook e anche sulla nostra applicazione e allora l'invito è quello di scaricare gratuitamente la nostra applicazione per avere Rossini TV sempre con voi sul telefono io vi auguro buon proseguimento di serata e buon divertimento su Rossini TV